ronald arkham la donnina dei misteri lettura di vir sentiero la vita è un mosaico composto da terribili idee di ogni genere era ancora buio e freddo il sentiero dove la pazzescolosa fanciulla andava barcollando era stata invitata ai festeggiamenti del compleanno del suo amico lancaster e doveva presentarsi per mezzogiorno al rifugio mordor il ragazzo era appena tornato da un anno sabbatico ad odswick ed aveva invitato tutto il suo network di conoscenze ad un pranzo in alta quota la piccola umana che sembrava disegnata coi pastelli a cera non aveva saputo dire di no le varie guide online che aveva consultato il giorno precedente indicavano tre ore per arrivare a destinazione il resto degli invitati si sarebbe trovato nel parcheggio ai piedi della montagna verso le nove ma la ragazza dallo sconfinato organo cardiaco aveva gli arti inferiori che non funzionavano bene in salita le gambe erano lunghe e snelle tuttavia ad ogni tipo di pendenza si ribellavano alla prima padrona sapendo che non sarebbe mai riuscita a tenere il passo del gruppo aveva avuto la malsana idea di partire per l'escursione da sola prima dell'alba in quel modo sarebbe arrivata in orario anche se ci avesse messo il doppio del tempo di una persona normale avrebbe avuto tutto il tempo da dedicare a se stessa riflettendo sarebbe stato un'esperienza spirituale un'avventura dove mettersi alla prova e superare i propri limiti un mini cammino verso l'illuminazione che invece si stava tramutando in un calvario l'euforia iniziale era rapidamente evaporata per poi lasciare il posto prima alla spossatezza poi alla disperazione e infine alla tortura psicosomatica dopo neanche un'oretta di camminata aveva dolori ovunque non solo alle gambe ma anche alle natiche spalle e costato non riusciva a spiegarsi il perché anche il busto le dolesse manco stesse camminando sulle mani sentiva le gambe sia dure che molli allo stesso tempo era in affanno e respirava peggio di un coccodrillo in un forno aveva più sete di un branzino che nuotava a stile libero tra i granelli di sabbia del deserto decise di smettere di trascinare i piedi sul sentiero e si fermò per dissetarsi e prendere qualche bella boccata di ossigeno fresco allungò la mano verso la tasca esterna dello zaino per prendere la borraccia e notò con stupore che il tessuto era fradicio evidentemente la borraccia era stata avvitata male e durante il tragitto tutta l'acqua si era sbrodolata nello zaino sconfortata si lasciò cadere al suolo e piagnucolò come quella volta che all'asilo aveva scoperto che i vampiri non esistevano non avrebbe mai dovuto accettare la proposta di lanchi ma la cucciola era nata con un'anima candida e vellutata aveva anche creato con le sue manine una statuina con le sue sembianze fatta con la creta da regalargli adesso era stravolta e delirante sola in mezzo al nulla senza forze né stimoli a momenti sarebbe svenuta e nessuno l'avrebbe trovata prima di qualche ora tempo in cui qualsiasi animale avrebbe potuto nutrirsi indisturbato della sua tenera carne aveva appena rifatto le unghie non si meritava di morire così prese una manciata di sassi e li lanciò alla cieca le palpebre calarono da sole e si spiaggiò al suolo sfinita pronta a sacrificarsi per l'ecosistema la sua carcassa avrebbe saziato milioni di insetti generazioni di formiche avrebbero cantato ballato in suo onore dipinse nella sua mente una troupe di scarafaggi che filmavano un documentario sulla sua dipartita sarebbe stata masticata digerita e defecata da eserciti di bestioline e c'era anche la possibilità che una coppia di lupi famelici la servisse come portata principale del loro pranzo noziale se avesse saputo che avrebbe fatto quella fine avrebbe almeno mangiato due brioche per colazione chissà se avrebbe fatto male morire finalmente avrebbe riposato per l'eternità stai dormendo la voce angelica arrivava dall'alto era proprio il giorno del giudizio la mietitrice era giunta a reclamare la sua anima se sei morta posso prendere il tuo zaino il mio è caduto giù da una scarpata qualcosa era andato storto volevano ispezionare il suo zaino prima di farla entrare nel valalla pensavano forse che lei volesse bombardare l'aldilà facendo uno sforzo sovrumano aprì mezzo occhio sopra di lei stava un'ombra poteva essere o un animale di notevoli dimensioni o un mini uomo quando aprì anche l'altra palpebra scoprì che era entrambe le cose un bambino doveva avere meno di dieci anni e sarebbe stato pallidissimo se non fosse stato così lercio la stava fissando con tristi occhi grigi sembrava un gattino abbandonato in un cassonetto dell'immondizia la ragazza ancorata al suolo sputtò qualche parola fatica sei una persona vera mi chiamo mark seguimi dopo aver pronunciato il suo nome il bambino scomparve la sua curiosità superava di gran lunga la sua pigrizia perciò si alzò sulle ginocchia per guardarsi intorno giusto per essere sicura di non aver avuto delle visioni mark era qualche metro più avanti di lei e con un lento gesto la incitava ad andare avanti sul sentiero la donnina si alzò in piedi con precario equilibrio sarebbe bastato un soffio di vento per scaraventarla al suolo non ce la faccio mi sento le gambe piene di schegge vai a chiamare i tuoi genitori e digli di portarmi dal rifugio con una barella o un trono al solo pensiero di farsi portare in trionfo come un imperatore si sentì un attimo meglio tu sei forte coraggio le voltò le spalle e si allontanò sparendo dietro un tornante ansimando cominciò a camminare molto lentamente come se fosse in bilico su una corda in cima ad un burrone appena girata la curva rivide l'essere sporco come se si fosse rotolato nel fango e triste come se gli avessero cagato su tutti i giocattoli vali molto più di quello che pensi riprese a camminare facendosi inseguire senza mai più voltarsi perché quel moccioso non l'aspettava avrebbe voluto tirargli un sasso addosso se solo non fosse stata sicura che chinandosi per raccogliere qualcosa sarebbe caduta e mai più rialzata il terreno era anche diventato molto fangoso il che rendeva ancora più faticoso ogni passo fermati sono finita dentro le sabbie mobili il suo crescente nervosismo sembrava dare nuove energie ai suoi muscoli appena raggiunto il marmocchio gli avrebbe tirato un orecchio per non aver portato rispetto ad un adulto facile camminare quando si ha vent'anni di meno sulle spalle era talmente leggero che non faceva neppure rumore quando si muoveva in compenso emanava uno lezzo nauseante di terra bagnata aspettami te l'ordino ma il puzzone era già sparito dietro la curva lei serrò i pugni e marciò agguerrita dopo l'ennesima svolta il sentiero terminò davanti alla ragazza si manifestarono un centinaio di gradini di pietra che portavano ad un grande edificio costruito su un'enorme roccia spiovente più che un rifugio sembrava un tempio buddista ce l'aveva fatta non poteva crederci esultò lanciando le braccia al cielo era talmente orgogliosa di sé che il nervosismo si era estinto e avrebbe battuto il 5 al bambino anzi l'avrebbe addirittura abbracciato nonostante lo strato di l'erciume che lo avvolgeva ma del moccioso non c'era più neanche l'ombra e nemmeno l'odore intorno a lei c'erano solo le proprie impronte di fango nessuna traccia del suo nuovo amichetto scrutò anche un attimo sulle cime degli alberi nel caso si fosse arrampicato per farle un agguato dall'alto nulla evaporato decise di iniziare la scalata e di chiedere info al rifugio magari era già salito in cima correndo a quattro zampe ai piedi della scalinata di granito decorata da fiori appassiti c'era una pietra iscritta qui giacciono le spoglie mortali di mark trent che a soli otto anni si separarono dalla sua anima eterna a 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 Grazie a tutti.